Ben ritrovati dalla redazione, lo sciopero del terziario indetto a livello nazionale da Filcams, Cigelle, Fisa, Scat, Cisl e Wiltux per la giornata di oggi ha causato gravi disagi nel servizio di erogazione delle mense scolastiche di Trieste. Migliaia gli alunni che si sono ritrovati senza servizio garantito, con il comune che è stato costretto a correre i ripari chiedendo aiuto in extremis alle famiglie, l'adesione alla protesta che in Italia ha coinvolto negozi, ristoranti, alberghi e agenzie di viaggio, supermercati, attività termali a Trieste ha visto un'adesione praticamente massiccia degli addetti alla ristorazione collettiva, lo sciopero di terziario e turismo è stato lanciato a tre giorni dal Natale per reclamare il rinnovo di contratti scaduti in media da oltre tre anni. Cambiamo argomento, scenderanno in piazza il giorno della vigilia di Natale i lavoratori di Varsila che hanno deciso in assemblea di organizzare un presidio di protesta tra gli alberi addobbati e i waltzer viennesi di Piazza dell'Unità d'Italia. I dipendenti della fabbrica di Bagnoli ritengono giunto il momento di una nuova mobilitazione e i sindacati si appellano affinché i cittadini si stringano ai lavoratori, la decisione presa davanti all'imminente scadenza del contratto di solidarietà che dal primo gennaio cesserà di garantire le maestranze. Sindacati e azienda hanno ripreso intanto i contatti per tentare un'intesa sull'amortizzatore sociale ma il confronto è alle schermaglie iniziali. In seguito siamo alla cronaca ad una discussione sull'autobus, aveva bloccato il servizio pubblico per 40 minuti, è stato quindi rinviato a giudizio e rischia fino a un anno di reclusione. L'episodio risale al 2022 ed è avvenuto su un autobus dell'APT Gorizia, della linea Gorizia Grado. Alla richiesta del biglietto il passeggero aveva dato in escandescento e bloccando il mezzo dovrà quindi presentarsi il prossimo maggio innanzi al Tribunale di Gorizia con l'ipotesi di reato che è interruzione di servizio pubblico. La decisione della Procura sarebbe arrivata in seguito a numerose denunce presentate dall'APT Gorizia che si costituirà parte civile. Questa mattina nel salotto azzurro del Palazzo Municipale di Trieste alla presenza del Sindaco Roberto Di Piazza, dall'Assessore Comunale con Delegale Politica del Territorio Michele Babuder, dell'Assessore Regionale con Delegale Infrastrutture e Territorio Chessina Mirante e il Consigliere Regionale Claudio Giacomelli, autore di un emendamento per ulteriori risorse dedicate al trasporto pubblico locale marittimo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei dati sui servizi di TPL marittimi nel 2023 e gli interventi in programma per il 2024. Il Sindaco Roberto Di Piazza si è complimentato con l'Assessore regionale con Delegale Infrastrutture e Territorio Cristina Mirante e con il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli per il finanziamento di 1.350.000 euro a favore degli interventi per rafforzare il trasporto pubblico locale marittimo. Ci siamo alle 20.45 i riflettori del Stadio Rocco si accendono su un derby attesissimo Triestina-Padova, qualunque sarà il risultato comunque non sarà determinante per l'esito del campionato ma la sfida è attesissima poiché la condizione di pubblico è da grandi eventi, la vendita di biglietti continua a correre, si va verso i 12.000 contro gli 11.300 posti venduti, compresi gli abbonati, 1.138 i padovani e la curva Furlan esaurita, uno spettacolo che metterà nudo quanto pesi l'esilio di Fontana Fredda e quanto siano pesanti le responsabilità di chi ha costretto la Triestina ad emigrare. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, in montagna variabile e sulle creste ad alta quota soffierà vento da sostenuto a forte da nord-ovest, in giornata miglioramento con cielo poco nuvoloso il vento sarà in attenuazione, lo zero termico sarà in rialzo fino a 2.400 metri circa in serata. Temperature minime in pianura fra 1 e 5, sulla costa fra 5 e 9 gradi, le massime ovunque fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo. Quindi buon weekend natalizio e buon proseguimento di ascolto con la nostra programmazione.